Renato Quagli inizia una nuova edizione del Future Forum, quest'anno il tema sarà economia della bellezza, di cosa si parlerà e quali saranno i punti salienti di questa edizione? La quinta edizione di Future Forum, la Camera di Commercio ha voluto dedicarla ai siti UNESCO, alla bellezza dei siti UNESCO e alle potenzialità economiche che rappresenta una regione che con ben 5 siti UNESCO, tra quello naturalistico di Forno e di sopra, con Aquileia, con Palmanova, con Cividale, rappresentano una potenzialità non solo di nuova economia turistica, turistico-culturale, anche identitaria, ma anche delle nuove professionalità per le giovani generazioni, perché nell'ambito delle nuove tecnologie del digitale, nell'ambito della promozione, del marketing, dell'organizzazione, in forma di reti di parte di questo servizio, lì c'è possibilità e c'è necessità di nuove professionalità. Grazie a tutti!